Al via il ciclo di cure termali per i cittadini di Sala Consilina e di Caggiano, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone ha infatti pubblicato l'avviso per l'iniziativa Terme e Benessere, promossa nell'ambito della programmazione degli interventi di carattere sociale e di sostegno ai cittadini, proposta con gli stabilimenti Terme Rosa Pepe e Terme del Tufaro di Contursi Terme. L'iniziativa prevede il trasporto gratuito giornaliero Sala Consilina con Tursi Terme per un ciclo di cure termali di 12 giorni, tre turni previsti per entrambi gli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 3 ottobre e il 5 novembre prossimo. I cittadini residenti interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione su apposito modello scaricabile sul sito del comune di Sala Consilina o disponibile presso lo sportello della sede comunale, allegando i documenti richiesti entro il 26 settembre prossimo. Nel caso che le istanze siano in numero superiore ai posti disponibili, sarà data precedenza ai cittadini ultra 60 anni e ai disabili bisognosi di cure termali. Il comune di Caggiano invece, guidato dal sindaco Modesto la mattina, organizza un ciclo di cure termali presso le terme Forlenza di Contursi Terme in collaborazione con il centro sociale anziani Pucciarelli. Chi è interessato può iscriversi presso l'ufficio Anagrafe entro il 16 settembre prossimo. Il comune precisa che le domande che perverranno oltre il termine previsto saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti in pullman e che alla domanda si dovrà allegare il certificato del medico curante a fruire delle cure termali. Tutte le informazioni e il modulo di adesione si possono reperire al Servizio Affari Generali.